E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Kitz e oggi vi racconterò che cosa ne penso analizzando gioco per gioco, podcast e tutto di più. Che cosa ne penso di Little Nightmares e del suo mondo assai affascinante, ma al contempo anche misterioso. Andremo ad analizzare un po' il tutto, quindi partendo dai due giochi al podcast e addirittura analizzando anche il terzo gioco in arrivo l'anno prossimo, quindi nel 2024. Ma prima ti ricordo di lasciare like, iscriverti e attivare la campanellina per non perdervi nessun video. E supportare al meglio, mi raccomando. Partiamo col dire che questo gioco mi affascina tantissimo, perché è pieno di misteri, ma specialmente con questo nuovo podcast si è rivelato ancora di più una cosa abbastanza misteriosa. Perché? Allora, partiamo con la spiegazione del podcast perché mi sembra abbastanza un argomento nuovo e fresco. Prima di tutto il podcast è disponibile sia su YouTube sia su Spotify, insomma dove volete ascoltarlo. Io l'ho ascoltato semplicemente su Spotify, non sapendo che c'era anche su YouTube. E veramente entri in una situazione abbastanza particolare dove letteralmente suoni fanno veramente una gran parte. Gli attori sono stati bravissimi a raccontarlo, devo dire è stata un'esperienza molto carina da proporci, anche perché comunque il mondo di Ritter Nightmares non è solo i videogiochi, ma per chi lo sa e diciamo è appassionato di questo mondo, ci sono anche disponibili due fumetti che in realtà doveva essere una collana da quattro fumi volumi, ma in realtà sono usciti solamente due. Dopodiché si sono fermati e hanno pensato giustamente di proseguire e crearci un vero e proprio gioco. Partiamo col dire che il suono degli incubi è il nome del podcast e i suoi principali attori sono Nessie, la bambina ricoverata in questo studio. Abbiamo Otto, che è appunto il dottore, lo psichiatra, che cerca di capire il problema di Nessie. E Sissi, che è un protagonista che verrà poi dopo il racconto, cioè dopo praticamente vari episodi. Ora vi spiego un pochettino il ruolo di questi tre personaggi fondamentali. Allora, Otto sicuramente è un dottore che è affascinato da questi sogni condivisi, proprio perché la bambina sembra percepire qualsiasi cosa, qualsiasi sensazione, proprio come se scomparisse e andasse in un altro mondo. In questo caso Otto è sconvolto da questa rivelazione. Durante il podcast potete ascoltare che Otto è incredibilmente ossessionato da questa cosa, proprio perché ha perso la sua sorella di nome Sissi, proprio in questo modo, non trovandola più, non riuscendo la più a trovare, è persa in questo mondo, dove il traghettatore, così lo viene chiamato l'uomo candela, porta via con sé tutti i bambini. In un mondo scomparso, anche perché loro stessi, anche per esempio Nessi nel racconto, a un certo punto scompare dalla vista di Otto. Ci sono alcuni momenti in cui lei dorme e scompare e va in un'altra dimensione. Quindi questa, diciamo, è la premessa di tutto il podcast e quello che accade in breve. Praticamente quindi Otto è assessionato dal trovare la sorella e sfrutta Nessi cercando di capire che cosa sta succedendo. Ovviamente prende a cuore la bambina e cerca di trattarla nel miglior modo possibile, senza, diciamo, creargli altri traumi, perché la povera bambina è stata già soggetta a diversi esperimenti poco carini e poco consoni. Ora, da questo piccolo racconto io ho tratto diversi elementi e teorie, possono sembrare contrastanti tra loro, ma se voi ci riflettete ad alcune di queste teorie sembrano davvero reali. Allora, prima di tutto concentriamoci sul mondo di Little Nightmares in generale. E come potrete vedere, in ogni caso, i nostri protagonisti hanno, diciamo, più o meno dei numeri, cioè vengono chiamati come dei numeri. Per esempio, mono nel secondo vuol dire uno, six vuol dire sei, seven e corrisponde a sette, che è un altro bambino, otto e il dottore, otto, otto, quindi c'è un nesso. E Sissy non significa nulla e nemmeno nessi, però queste due protagoniste potrebbero combaciare. Ora vi spiego la teoria. Allora, io ho pensato, e non solo io ho pensato questa cosa, ovvero che Sissy potrebbe essere in realtà Six, potrebbero essere la stessa persona. Anche perché nel podcast, verso la fine degli ultimi episodi, Nessi, in uno dei suoi racconti, afferma di vedere, in particolare nel sesto episodio, ecco, me lo sono segnato, praticamente dice di vedere un impermeabile giallo. Questo è un chiaro segnale di impermeabile, il famoso impermeabile di Six. E se Six fosse in realtà Sissy, dato che comunque i nomi, cioè, ora, non voglio dire, però, sembrano combaciare Six, Sissy, comunque due nomi che sono molto vicini, ora potrei anche sbagliare, questa è una teoria, ovviamente. Però, effettivamente, se Six fosse veramente Sissy, e quindi lei avrebbe fatto tutto questo viaggio, diciamo, per scappare dalle grinfie di Otto, perché poi alla fine, nel finale, Otto si dimena perché vuole a tutti i costi riesce a incontrare questo traghettatore o, come volete chiamare voi, l'uomo Candela, e al finale si sente che lui viene, tipo, tagliato fuori, diciamo così. E questo taglionetto mi fa pensare che Otto potrebbe essere Mono. Perché? Allora, se voi pensate che il secondo gioco è in realtà il primo, e quindi iniziamo con Mono, che incontra Six, quindi in questo caso lui nel podcast cerca appunto Six, Sissy o chi per esso sia, e continua ad andare avanti. Quindi, magari lui non si ricorda di questo ricordo, diciamo così, non ricorda di essere stato in quel posto, diciamo, perché è appunto comunque un sogno. Quindi i sogni non dovrebbero, cioè non tutti riescono a ricordare dopo tanto tempo che è cresciuto, effettivamente. E chi più di Mono nel finale poi cresce e viene abbandonata Six? Questo abbandono mi sembra lo stesso abbandono che Otto ha avuto da parte di Sissy, la sorella. E guarda caso Six ha abbandonato Mono facendolo diventare grande. Quindi abbandonando il suo destino, abbandonandolo, scusate, al suo destino, e di conseguenza Mono cresce e rimarrà, cioè diventerà l'uomo delle televisioni. Però ora, nella realtà, se questo accade, può essere che Mono è la controparte di Otto, cioè perché Otto viene abbandonato da Sissy. Questa è, diciamo, una mia teoria sempre. Questa è una delle tante teorie che ho fatto ascoltando sia il podcast che giocando ai videogiochi. Un'altra teoria che viene relegata a Otto è in realtà, quindi, che non è Mono, ma in realtà è Seven. Secondo alcune, eh. Io ora ve la butto lì. Ovviamente poi ditemi nei commenti che cosa ne pensate voi, quali teorie avete fatto. Allora, Seven potrebbe essere quindi Otto. In questo caso, nel podcast si sente che comunque c'è un bambino con una catena al piede. Stessa cosa si ritrova in Seven. Che Nessi praticamente cita di aver visto questo bambino all'inizio del podcast. In questo caso potrebbe essere il bambino Seven. Se in questo caso Seven potrebbe essere Otto, ma io non credo che questa potrebbe combaciare come teoria. Però certo, possiamo dire che Nessi abbia visto Seven. Quindi in questo caso lei c'entra col mondo di Little Nightmares. Cioè, nel senso che secondo me questo posto, le fauci, come vengono chiamate nel primo gioco, nonché il secondo, in realtà, praticamente secondo me è un posto dove vanno a finire tutti i bambini. Avrebbe così senso che Nessi incontra sia l'impermeabile giallo di Six, sia che all'inizio vede Seven, che è un altro dei bambini in cui si vede nel primo gioco. e quindi fa riferimento a tutte queste cose. Cioè, questa teoria potrebbe essere effettivamente quella più veritiera, secondo il mio parere. In ogni caso, sappiamo tramite il podcast che Nessi è una bambina che purtroppo ha un tumore che non si riesce a comprendere negli ultimi episodi se sia un tumore maligno o benigno. In ogni caso, Otto non rileva, cioè non fa capire a Nessi questo fattore, quindi se sia cattivo o non. Però, non si riesce a comprendere se questa cosa sia legata ai sogni o sia semplicemente una cosa, una malattia è bassa, che non c'entri nulla con il fatto che Nessi scompare, ricompaia e faccia questi tipi di sogni. Un'altra teoria che mi viene in mente è quindi quella che confermerebbe quindi tutte le teorie precedenti o comunque legate a Nessi che potrebbe essere Sissi e che comunque Nessi avrebbe in questo caso rivissuto l'esperienza della sorella di Otto dato che comunque le loro esperienze sono abbastanza simili per quanto deduca Otto. In questo caso potrebbe essere veridiero il fatto che Nessi quindi fa lo stesso percorso di Sissi che potrebbe essere quindi di conseguenza Sissi quindi ci sta che lei ripeta alcuni dei personaggi del primo. Un'altra cosa che noi sappiamo tramite il primo gioco è però che Seven purtroppo non ce la fa non ce la fa perché viene ucciso letteralmente da Six sembrerebbe proprio perché il bambino Seven è riuscito in ogni caso a finire diciamo il gioco prima di Six in questo caso però è stato trasformato dalla signora in un monimi monini insomma quella specie di gnomi che in realtà dovrebbero essere dei bambini e Six in un momento di fame praticamente divora uno di questi gnomi che gli aveva dato da mangiare lo stesso gesto che Seven aveva fatto nella mensa quindi si deduce che praticamente Seven sia comunque morto un'altra cosa sicuramente legata al podcast perché ora stavo parlando del podcast poi arriviamo agli altri due giochi è sicuramente il fatto che praticamente Nessi dice di vedere negli ultimi episodi un circo una specie di circo dove ci sono tre bambini in ogni caso dei bambini che devono far divertire gli adulti questa cosa mi ha fatto pensare ai nuovi personaggi di The Nightmares 3 perché alcuni di loro hanno delle maschere sono abbastanza colorati e a quanto ho capito dovrebbero essere incentrati anche su questo circo cioè insomma alcuni hanno fatto delle reference al circo allora ho pensato e se questi bambini fossero effettivamente quelli del podcast riferiti al gioco che deve arrivare non lo so ora passiamo alle teorie quindi riguardante il gioco stesso allora partiamo col presupposto e lo rivedo di nuovo sì perché lo dobbiamo ripetere di nuovo che il primo gioco in realtà è il secondo quindi in realtà la storia inizia tramite Mono Mono poi giustamente viene abbandonato da da Six e Six continua il suo viaggio però Six praticamente la ritroviamo in una con il suo impermeabile ma la ritroviamo in ogni caso dentro una valigetta analizzando i fumetti ho notato che effettivamente Six viene rapita da un uomo abbastanza alto e con il cappello che non fosse per caso Mono che si è diciamo è diventato grande e diciamo si è ha voluto vendicarsi di quello che ha fatto Six e quindi l'ha presa l'ha rapita e l'ha portata in questo luogo per evitare che scappasse diciamo così e dovesse affrontare altre difficoltà secondo me questa cosa non è da sottovalutare questa teoria perché potrebbe anche esserci un'altra cosa che ho notato particolarmente è che effettivamente nel racconto del fumetto Six sente solamente dei rumori del mare attraverso la valigetta queste sensazioni le aveva anche nessi agli inizi del podcast che non fossero passate nello stesso luogo dove praticamente ci sono tutte le persone che lungo il mare camminano per arrivare ai vari negozi e quindi siamo nello stesso universo questo confermerebbe che tutti i bambini vanno in un unico posto e che quindi non è un posto che si inventano i bambini in un sogno cioè quel posto esiste realmente un'altra cosa interessante che noi vediamo in gioco sono le famose porte con degli occhi questa cosa verrà aggiunta anche in maniera diversa nel gioco nel terzo gioco di written nightmares che dovrà arrivare ovvero un bambolotto con la stessa funzionalità dell'occhio che aveva nel primo cioè quella di pietrificare i bambini guarda caso questa cosa era presente anche nei meccanismi delle varie porte ma non solo anche nel podcast viene citato viene fatto un accenno a porte con degli occhi incastonati quindi questa cosa viene ripresa in tutto e per tutto i little nightmares in ogni caso queste sono tutte teorie e cose che ho individuato dal podcast e collegate al gioco fatemi sapere se voi avete trovato qualche altra cosa in più o se anche voi credete a una delle teorie o ne avete ne altre ovviamente potete commentare nella sezione commenti ciao ragazzi ciao ciao ciao